Oggi prima esperienza con la nuova area sud, una bellissima esperienza, soprattutto su un campo molto caldo. Niente, domattina speriamo di fare meglio e niente, oggi abbiamo avuto un buon approccio in campo, soprattutto dal punto di vista psicologico, poiché è stata una partita molto dura e molto intensa. Ce la siamo cavata bene. L'approccio personale è stata una partita molto dura, come ho detto prima, e speriamo comunque domattina di fare meglio e di mantenere quello che è stato il risultato di oggi.